La torre è il simbolo di Ribera nel logo e poi nel logo della nostra radio, Radio Torre Ribera, lo vedi qua, c'è la torre dal 19 dicembre 1976. Questa bambina di 5 anni, timida, che è partita da Bologna, si è fatto imbazzire con la sua voce e speriamo che questo piccolo nostro pensiero possa portarti sempre traguardi più prestigiosi. Con una sola promessa, ogni volta che farai il messaggio d'amore, penserai a Ribera, alla nostra Ribera. Lo farò sicuramente, è un bellissimo concerto. Ricordiamo il valore di questo premio che viene consegnato dal 1993 a tutte le persone che sono di Ribera e per eccellenza, eccellono in qualche modo, in qualsiasi contesto. E questo è il primo premio consegnato da Radio Torre Ribera ad una persona che non è riberese e quindi questo è un valore aggiunto. Vi faremo cittadina onoraria. Grazie, intanto mi sento ufficialmente, 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 adottata da Ribera. Ok. Aspetta, stai dicendo qualcosa che non capisco. Cioè, no, ok, non è per me. Grazie, mi sento ufficialmente adottata da Ribera. No, il concerto non è finito, quindi state... Esatto, state lì. Non è il momento a chiedere il bis perché ha fatto altre canzoni, state tranquilli. Però ci tenevo ad avere questo premio. Eccolo. E farlo? Ci siamo riusciti. Nel momento in cui la piazza è così piena, così bella, perché credo proprio che l'artista, insomma, si meriti veramente un grande applauso e io sono profondamente grata per questa cosa. Grazie davvero. Però, 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 il premio, la premiazione non finisce qui perché arriva un altro omaggio per Silvia Mezzanotte. Allora è... E ha consegnato il segretario nazionale della democrazia cristiana, Totò Cuffaro. Grazie. Accompagnato dall'onorevole Carmelo Pace. Prima di darti fiori bianchi come la democrazia cristiana, io ti devo baciare. No, perché se no perdo la mia fama e ci baci tutti e non baci Silvia Mezzanotte. Non può essere, vero? Baccia solo le donne, ok? Bene, grazie, grazie mille. Grazie. Grazie a te e grazie da parte di tutti loro che vorrebbero baciarti. Però la bacio io un'altra volta e siete tutti contenti, vero? Grazie, grazie mille, facendo un grande applauso. Grazie, grazie al segretario Totò Cuffaro. Grazie mille, grazie a me lo bacio. Grazie, grazie mille. Allora... Hai fatto incetta di... Ci penso io una mano libera. Ok, grazie, sei molto gentile. Anzi, ne approfitto perché poco fa anche il sindaco, gentilissimo. Sì, sì. Matteo Ruvolo, scusami. Volevo un applauso anche per lui perché mi ha fatto dono di fiori, sono stata accolta in maniera eccezionale. E sono molto contenta di questo. Ho visto, ho visto, siamo contentissimi anche noi. Silvia, grazie davvero per la vostra musica, per la vostra arte. Vi rilasciamo al vostro pubblico. E io sono felice perché tu sei anche trapanese. Silvia, mezzanotte. Te la la faccio. Sì, la porto a dire, grazie. Buona continuazione. Grazie, grazie. Allora io ne approfitto.